150 sedie vuote, 150 nomi di donne, tutte le vittime di femminicidio in Italia del 2013. E' con questa immagine, immersa in un silenzio surreale, che la provincia e il CIF Centro Italiano Femminile decidono di celebrare a Napoli l'8 marzo, la festa della donna. In una piazza Matteotti insolita, le attiviste che hanno organizzato il flash mob riempiono gli spazi tra le sedie senza pronunciare parola. A parlare sono i manifesti che ricordano i numeri tremendi dell'anno appena trascorso e chiedono interventi urgenti per arginare un fenomeno sempre in crescendo. Ascoltiamo Rosa Russo, presidente provinciale CIF Napoli. Abbiamo deciso di fare questa manifestazione, questo flash mob, perché vogliamo ricordare l'8 marzo, proprio la giornata della donna, le donne uccise nell'anno 2013, che sono 150. E quindi questa l'abbiamo intitolata per non dimenticare, perché non dobbiamo dimenticare le donne, non si festeggia oggi, si festeggiano delle conquiste che abbiamo fatto, ma abbiamo pure perduto molto con questa violenza che si perpetra sulle donne. Quindi noi dobbiamo, se vogliamo che il mondo cambi, dobbiamo perdere l'attenzione su questo grave problema della nostra società.